Buongiorno, benvenuti a questa resegna stampa di oggi 21 febbraio e in realtà la questione secondo i giornali, diciamo quelli più seri, sarebbe tutta sulla manovra bis e cioè un'eventuale manovra di correzione dei conti che derivi non tanto e anche dal successo di alcune manovre tipo quota 100, successo di gente, non so se è successo macroeconomico, ma dal fatto che l'economia sta crescendo molto meno del previsto, tra l'altro tra poco si vedranno, ve lo anticipo, le entrate del gennaio del 2019, cioè quanto noi diamo al fisco e vedrete che i risultati saranno drammatici, positivi per noi perché ne diamo pochi rispetto all'anno scorso, ma ne diamo sempre troppi rispetto a quanto facciamo e comunque non sufficienti alle spese enormi che questo Stato ha. Oggi ci sarebbe una polemica tra il Ministro dell'Economia Tria e il Governo perché il Ministro Tria dice che ci sono 2 miliardi che abbiamo postato nel bilancio proprio per prevedere un possibile rallentamento dell'economia. Insomma, la questione della manovra bis vedrete che sarà una cosa di cui parleremo spesso, io dubito che prima delle europee del 27 maggio questo Governo possa fare una manovra di aumento delle tasse o riduzione delle spese. Voi che ne dite? Bene, sono aperte i sondaggi. La vicenda invece più interessante di oggi la mette forse in maniera più esplicita di tutti Agosto Minzolini sul giornale, ma non è l'unico. Anche il manifesto oggi fa questa relazione, cioè dice cosa cambia dopo che il Governo si è portato a casa la non autorizzazione a procedere nei confronti di un suo importante Ministro, cioè Salvini, grazie al voto di importanti esponenti del Movimento 5 Stelle. Tra l'altro quel cornuto, quell'incredibile personaggio già russo oggi ritratto dal Corriere della Sera, il forcaiolo che è forcaiolo su tutti tranne che su se stesso. E' sempre così, i giustizialisti e i moralisti sono orrendi personaggi perché sono sempre moralisti su di voi e mai su se stessi. Se vengono loro interessati trovano sempre una giustificazione morale per non essere moralisti su se stessi. Questo è già russo, l'orrore della politica italiana. Ma comunque non solo già russo l'orrore della politica italiana, quello che alcuni notisti fanno capire è come il prezzo pagato da Salvini, dal suo governo per non essere sottoposto a processo, è un prezzo altissimo che paghiamo noi però. Il prezzo lo hanno preteso il Movimento 5 Stelle nei confronti della Lega e il prezzo lo paghiamo noi. E come lo paghiamo questo prezzo? Secondo quanto dicono i giornali su questa mozione incredibile che verrebbe approvata oggi, su cui sostanzialmente si rimanda la votazione se fare o non fare la TAV, bene, si rimanderebbe dopo le europee. Mi spiegate qual è il criterio di rimandare dopo le europee quando il Movimento 5 Stelle avrà meno voti e la Lega ne avrà di più? E comunque come nota oggi sole 24 ore sono bloccati i cantieri nel nord per il 44% dei lavori, 5,9 miliardi bloccati, non è soltanto la TAV Torino-Lione, questi cazzoni stanno bloccando la Verona-Brescia, stanno bloccando il Terzo Valico, stanno bloccando l'Italia e voi siete lì che fate finta, ah boh qua e là eccetera, non si dovrebbe avere pietà su questa cosa qua, perché questo vuol dire i nostri soldi, il nostro futuro, il nostro PIL, l'incapacità di questo paese di svilupparsi pagato al prezzo del fatto che Salvini non voglia essere processato, cosa sacrosanta, perché lui non ha commesso nulla dal mio punto di vista, anzi ha fatto bene a bloccare la nave 18, ma vorrei che si inquadrasse in questo quadro assurdo, per cui non facciamo la TAV, la rimandiamo, tanto loro che gliene frega, la mano in due o tre mesi che volete che sia, altra cosa che oggi segnale il manifesto, ma non solo il manifesto, improvvisamente si sblocca la nomina alla presidenza dell'Inps, dove viene catapultato all'Inps un comunista, il consulente del governo su questa minchiata del reddito di cittadinanza che si chiama Pasquale Trivico, quello che c'era insomma sempre con Di Maio, quello che gliel'ha inventato questo reddito di cittadinanza, cioè un diciottenne oggi che volesse portarsi a casa 780 euro, se li porta a casa a determinate condizioni, quindi l'alternativa è fare il rider a 5 ore a passaggio o stare a casa e fare 780 euro, io sono uno di quelli che ancora pensa che sia meglio una società in cui tu faccia il rider dai tuoi 18, 19, 20 anni, anche a nero per quanto mi riguarda, cioè la capacità di portarsi a casa un lavoretto è molto meglio che stare a casa e portarsi il reddito di cittadinanza per essere formato da un navigator o da un centro dell'impiego della minchia di Cosenza, di Napoli, di Bergamo, che cosa volete che vi insegni in questi 18 mesi, ma comunque sia, chi se ne importa, tanto sono un isolato, come posso dire, liberista che pensa male, ma su questo continuerò a dirlo finché ho voce. Reddito di cittadinanza tra l'altro che cambia perché per i cittadini stradineri, secondo quanto dice il fatto, si richiederanno documenti sulla loro capacità economica nel paese di origine e quindi siccome ci sono difficoltà burocratiche per farlo sarà complicato che loro possano avere un reddito di cittadinanza. Mi suona molto simile a quella storia per cui per godere dei pasti all'asilo nido si doveva dimostrare di non essere indigenti nel paese di origine, come vi ricorderete si scatenò una polemica mostruosa scatenata anche dal Movimento 5 Stelle, in questo caso siccome riguarda il Movimento 5 Stelle e il loro reddito di cittadinanza la polemica la farà la sinistra, anche se voglio dire che è molto di buon senso questo che avviene, chiunque abbia un esercizio commerciale, una ristorazione, sa perfettamente di quante volte si mettono in disoccupazione, in molattia ritornando al loro paese e godendo dei benefici della nostra assistenza sociale e dell'Inps persone non italiane. Un po' di controllo, buongiorno Stefano, forse bisognerebbe farlo su quelli che vengono qua e ci dicono che sono indigenti, lo sono davvero, lo sono più dei nostri, hanno un'alternativa, hanno una casa a casa loro mentre i nostri non ce l'hanno a casa loro, insomma io non sono del tutto contrario, ridicola come sempre la posizione del Movimento 5 Stelle quando si parla di moralismo, dopo Gianrusso l'altro personaggio favoloso è Nogarin, il sindaco indagato di Livorno per una cosa per la quale Marta Vincenzi a Genova è stata condannata. Io penso che sia sbagliato che abbiano condannato Marta Vincenzi, penso che sia sbagliato dare responsabilità oggettiva ai sindaci per i disastri che avvengono in loro città perché quello si deriva da 20-30 anni di incrostazioni, di edilizie del passato, ma non voglio entrare nel merito, magari hanno ragione i magistrati, ma la cosa che mi fa impazzire è che dopo un mandato Nogarin come sindaco di Livorno dice ciao, va in Europa, vado a fare l'euro parlamentare, oh vi giuro eh, non uso assolutamente lo scudo dell'immunità parlamentare, posto che non sempre uno ha a disposizione la possibilità di rinunciare allo scudo dell'immunità parlamentare, io vi dico che cosa è questa storia, cioè tu hai fatto il sindaco, l'hai fatto bene, l'hai fatto, ritieni di averlo fatto bene per cinque anni in una città e ti vai a candidare all'euro parlamento, ma io lo farei perché direi beh così guadagno finalmente un po' più di soldi invece che i 4.000 euro con mille responsabilità e rischio di galera vado a prendermene 20.000 a farmi un viaggetto con le ostriche a Bruxelles, insomma a me questo mi piace, è abbastanza nella mia linea, ho la macchina blu che mi viene a prendere l'aeroporto, non ho più nessuna responsabilità, sono lì che faccio la grande strategia dell'Europa, insomma un destro egoista a cui piace Champagne e Ostri che può farlo questo discorso, ma Nogarin, Nogarin, perché vai in Europa? Perché non finisci il tuo ciclo di due mandati in Italia come sindaco a Livorno? Qual è il problema? E dai, su, e dai, è chiaro qual è il problema, il problema è che l'immunità gli serve e togliersi dall'incapacità di gestire quella città gli serve, purtroppo ne da Livorno ci siamo portati a Roma, pensate un po' voi gli assessori. Di Tridico vi ho detto, e beh la vicenda di Renzi continua con il giornale di Belpietro che ne ha fatto una sua motivo di vita, che continua a dire che ci sono addirittura nuove carte, ci potrebbe essere una nuova indagine nei suoi confronti rispetto al fatto quotidiano che bastona ovviamente sulla vicenda comprensibilmente e su Maria Elena Boschi che sceglie il Foglio, giustamente perché ha sempre mantenuto una posizione, diciamo sua dison garantista, ma soprattutto renziana, in cui dice che stanno subendo la macchina del fango, che il PD è unito, cosa che invece non è del tutto perché Orlando e Berini, come nota bene il fatto, non stanno con Renzi, poi dice che non c'è nessun complotto, però poi dopo mette le stesse in evidenza, come ottimamente il giornalista del Foglio lo fa notare, il fatto che sia un po' strano, l'orario a cui l'hanno arrestato le 18.53 sia un po' strano, il fatto che questa sia un'inchiesta vecchia e che ci siano procedure da ottobre, insomma mette in evidenza molte stranezze e tra l'altro l'altra stranezza è che questa cosa coincida con il gran casino di Salvini. Insomma, il giornalista dice che non c'è il complotto, però un po' lo stai evocando, è un po' diverso, dice che non c'è e continua su questa strada. L'unica cosa che mi viene da dire a Maria Elena Boschi sul fatto della macchina del fango e che c'è evidentemente, che non so se la macchina del fango non la puoi definire in poi, insomma, questo termine che io mi ricordo veniva appiccicato al giornale sulla questione di Fini, che ben sala buongiorno, che ci querelo e che oggi in un'intervista spiega che lei ha consigliato a Salvini di non farsi sottoporre a processo. L'avvocato consiglia al suo assistito di non sottoporsi al processo, lo stesso avvocato che diceva a Berlusconi che non ci si difende dai processi ma nei processi, oggi invece a Salvini dice che ci si difende dai processi, ma lasciamo perdere l'incoerenza della buongiorno che è quella che si è inventata una carriera sul nulla. Ma la cosa straordinaria è come in realtà i garantisti lo sono soltanto e sempre, in questo c'è ragione, voglio dire, molti giornali che l'hanno scritto in questi giorni, prodomo loro, perché io non mi ricordo Maria Elena Boschi difendere a petto aperto, cioè come si dice, non vorrei essere volgare, a viso aperto difendere la Guidi, sua collega di governo quando fu incastrata da una vicenda che non c'entrava nulla. Non mi ricordo la Boschi difendere per il Rolex del figlio Lupi che era un ministro, mi sembra di quei governi, più o meno di quei governi di cui partecipava lei. Non me la ricordo che li difendeva quelli, li hanno mollati tutti e se molli loro, molli anche Renzi oggi e se quella macchina c'era del fango ieri, c'è anche oggi e se oggi piagnucoli, perché non è piagnucolato ieri? Lasciamo perdere quando c'era Berlusconi, come dice qualcuno qua, che non tutti godevano come i ricci, ma lasciamo perdere. Diciamo che Berlusconi è il male assoluto come sempre questi hanno pensato, ma voglio chiedervi, ma gli stessi loro compagni di partito, quanto li hanno difesi quando successe a loro, quanto li hanno difesi? Io se fossi in questi compagni di partito forse glielo ricorderei, ma ovviamente ognuno ha famiglia e ovviamente come dice Baudelaire, nei fiori del mare, all'inferno si scende a piccoli passi, gradino per volta e quando abbiamo iniziato a non difendere Berlusconi, Lupi, tutti questi personaggi qua e dando ragione, ovviamente magistrati che hanno sempre e comunque ragione, allora caraboschi, te la sei presa anche tu con il tuo arresto, quello di Papattuo che non è stato arrestato, le indagini su tutti quanti il vostro giro. Direi che per oggi è tutto, petto aperto è da striscia, hai ragione, petto aperto, ma come cavolo mi è uscito? Va bene, direi che per oggi è tutto, poi c'è un'altra cosa straordinaria, c'è la storia del rapimento della, oppure presunto tale, della ragazzina di 17 anni che figlia dell'ambasciatore e della Corea del Nord a Roma, che in realtà non è l'ambasciatore, è l'incaricato d'affari e tra l'altro perché l'incaricato d'affari è l'ambasciatore, perché l'ambasciatore non era gradito dagli italiani, quindi va via l'ambasciatore, resta l'incaricato d'affari, l'incaricato d'affari secondo alcuni sotto protezione degli 007 italiani in realtà non lo è e nel frattempo la figlia di 17 anni secondo un video sarebbe stata portata attraverso Fiumicino e un volo di linea dai nonni in Corea del Nord, dove gli fanno un mazzo così se il padre davvero ha disertato la Corea del Nord. Altra cosa incredibile che i giornali oggi ricordano è che è molto difficile che un potenziale disertore gli facciano venire la figlia nella città in cui lui deve fare l'ambasciatore perché li tengono apposta in Corea del Nord perché dicono se scappi ci pensiamo noi con la tua famiglia, insomma una storia pazzesca, grandissima, in cui oggi sui giornali c'è come spesso avviene in questi casi poco nulla perché questa è una roba da spioni, veramente quando ci sono i complotti, le spie, la politica internazionale, beh ecco in quei casi come in questo, sui giornali non trovate niente, poco retroscena, molti fatti, ma è una di quelle storie alla Le Carrée che devo dire divertirebbe molto raccontarla in maniera diversa, un giallo, un giallone. Bene, vi do un grande, invitiamo Kim a Roma che con una cenetta base di crudo e parmigiano scoppia la pace prima di sera, sostiene qualcuno di noi. Un abbraccio, ciao a tutti quanti.